Ciao ragazzi, oggi siamo qui su questo nuovo video per fare l'ultimo spacchettamento del bozzo. Oggi saluto Gabriella, Nicolò, Giovanni e Pietro. Che dire, cominciamo subito. Poli Non capisco come si chiama, però non so uno che è dell'Atalanta. Le Raja Le Un cinese Andiamo subito con Lopez della Roma Blitz Abbiamo Larsen Idolo Salabria Zurkoviski Sirgu Paloski Yagelo Ataccante Supereroi dell'Atalanta Scusate Scusate Tu L'Atalanta Luis Alberto Rosettini Silvestri Silvestri Abbiamo Abbiamo Castagne Iaglialo Cionec Anzaldi Anzaldi De Polo Pinamonti Diamante Castro L'Atalanta Andranta 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 peluso murro coppia imbattibile del braccio d'andarumma d'ambrosio idolo una, due, tre, cinque pacchetti scufetta Iago Falch Patelli Ramsey Doppione Vigorito e Correa Stella Bucchetti Barrega Rasmussen Raffaele 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 Kolarov Rodriguez Ospina Raffaele 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 Raffaele